Corte Maggiore si è svegliata nel dolore, nello sgomento e nell'incredulità per la tragica morte di Nicola Zaffiniani, il ragazzino di soli 16 anni, vittima di un incidente ieri sera intorno alle 19.30. Le forze dell'ordine stanno ancora tentando di costruire la dinamica dello schianto. Il giovane, in sella al proprio scooter, era in via Boni Brighenti. Si stava lasciando alle spalle Corte Maggiore e stava viaggiando in direzione Fiorenzuola. Probabilmente stava facendo ritorno a casa, visto che abita non distante dall'oratorio. Ad un tratto il ragazzo è finito contro la fiancata destra di un'auto furgonata, che era in procinto di svoltare. L'impatto è stato molto violento, tanto che il finestrino della vettura è andato in frantumi ed è stato proprio il vetro rotto a provocare un profondo taglio al collo del giovane. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Accanto a lui, fino all'ultimo, è rimasto il fratello Alberto, di soli 21 anni. Corte Maggiore è ancora sotto shock. La giovanissima vittima e i genitori sono molto conosciuti. La famiglia è infatti proprietaria di un negozio di ortofrutta in piazza. Nicola, zaffo per gli amici, era un ragazzo conosciuto da tutti. Giocava a calcio nella squadra allievi di Corte Maggiore e durante le feste con i coetanei si divertiva a fare il DJ. Era uno studente all'Istituto Alberghiero di Salso Maggiore, in paese aveva molti amici e spesso si fermava all'oratorio, davanti al quale, nel drammatico incidente di ieri sera, si è chiusa la sua breve vita.